Caffita System è una società che nasce nel 2004, noi produciamo capsule e confezioniamo per vari torrefattori capsule del sistema Caffiteli, è un sistema semi aperto e siamo presenti praticamente in tutte le nazioni del mondo. Quest'anno presentiamo due nuovi prodotti entrambe le linee nel Caffiteli System come anche nel Caffiteli System Professional, il primo prodotto è la S05 e il secondo prodotto è la S06 che è un'evoluzione dell'attuale Nautilus S01. Entrambe le macchine si presentano con nuovi colori, è tecnologia all'avanguardia, per la linea professional abbiamo sviluppato un nuovo sistema di deconto che vi andremo allustrare. Il nuovo sistema di deconto permette di programmare la macchina con un codice del gestore e consente il funzionamento solo ed unicamente se le capsule vengono fornite insieme a una scheda ricaricata e fornita dal gestore per la quale è stata programmata la macchina. Questo sistema consente di dare una protezione totale al parco macchine del gestore. Grazie a tutti